Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo noi simili, sono Bond Channel e oggi ragazzi siamo qui su Kingdoms allora, dopo tanto tempo l'ho detto il nome vabbè, comunque, a parte questo ragazzi, questo gioco a me mi piace un sacco quindi l'ho deciso di portarvelo ancora quindi, cioè, l'ho deciso di portarvelo ancora allora, oggi che potremmo andare a fare ragazzi? io, semplicemente, vorrei risfidare Pokémon Go vorrei risfidare Pokémon Go e infatti, andiamo a sfidare andiamo a sfidare andiamo subito allora, scegliamo boom, mago andiamo subito col mago allora, con l'aggiornamento 03 come è possibile aprire il diario? come nella vecchia versione aprendo la personalizzazione la prendo in basso a destra in basso a destra no in posizione aprendo la personalizzazione eeeh ho sbagliato vabbè allora allora andiamo nuovamente a rifarlo andiamo nuovamente a rifarlo ok il tizio qui non so chi è cosa hanno aggiunto nell'aggiornamento del 310716 noi Pokémon hanno oggetti scambio tra l'allenatore e la cosa eeeh ma no, sto sbagliando su tutti sto sbagliando su tutti e poi su Pokémon Go gioco pure tanto allora io direi di andare a fare GTA GTA perché GTA adesso mi sta sfidando davvero ma davvero molto allora dove è GTA? mi sembra che sta qui allora GTA ecco GTA allora ok andiamo a scegliere ecco qui abitanti del regno quale attività? attività non esiste scuola guida caccia ricette scuola di volo scuola guida eccolo eccolo che incominciamo eccolo allora andiamo qui due abitanti ormai gli abitanti del chiappo sempre se non si addestra roba Franklin cosa troverà molto spesso vicino alla cucina del cane i suoi escrementi una buca un peluche rovinato nessuna di queste cacchio la sua cacca bene benissimo davvero benissimo andiamo a rifarlo dai ci rifaremo ragazzi ci rifaremo l'ultimo tentativo cioè finché non finiamo i cuori però ovviamente non faremo tutto il tempo GTA sempre ci rimane la vita dopo di questo turno quali sono gli accessori che si sbloccano a GTA online su ammunition dopo il completamente del colpo al laboratorio human ripeto il bisogno di un turno ripeto il bisogno di un turno questo mamma mia mamma mia e neanche l'ho fatto il raid human ragazzi chi è il personaggio che ha inizialmente la statistica di volo più alta mi sembra mi sembra di volo cacchio chi è il personaggio che ha inizialmente saltare durante la missione di Beverly Franklin quando insegue Poppy in seguito all'incidente di Poppy se Franklin rimane a ascoltare cosa dice Poppy alla polizia negozio non si possono apparire queste cose nei miei video mannaggia attraverso Franklin conosce Don Bisley mi sembra l'amar no ragazzi allora andiamo subito a continuare adesso non facciamo più questo facciamo qualcos'altro facciamo qualcos'altro andiamo a fare clash of clans ma penso che dopo clash of clans ecco vabbè allora ragazzi il video può finire qui lasciate like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo a un prossimo video e mi dispiace ragazzi ciao